Questo programma è spostato da Insegna International Languages Bookshop. Sei solo, sei solo nel tuo mondo illuminato di luci di città e brilla per te una chimera nei tuoi sogni. Guarda sull'asfalto, è duro il suo smalto, soltanto sull'erba troverai la verità della tua vita. E di questo vino, compadre, 1994, non da una settimana vecchio. Va bene, una settimana, basta che, come dici tu voi, compadre, voi sapete fare il vino e non se ci fanno. Adesso questo vi faccio assaggiare qualcosa di buono. Ecco, quello è buono per fare l'aceto adesso. Spermente non c'è altro l'odore di quello. Vapete che non ha l'odore di calza non ha. Ma mi avete detto di far più il cialolo con la calza? Mh, questo sì che è buono, compadre. Adesso è buono. Ah, che sì. Non c'è nessun odore questo. Ah, saluto, compadre. Saluto. Sai che odore c'è questo? Odore di poco. Sai che facciamo, compadre? Eh. Alla prossima, il vino facciamo qui. Ah, va bene. Saluto. Io compro l'uva, la porto qua e lo fai tu. Saluto. 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 che la gente è qualcosa che ho anch'io, quindi le nostre sono un po' vite parallele in questo senso. So che sei stata anche nel coro della... La voce della luna. La voce della luna, quindi ecco. Che veramente abbiamo... questa parte particolare ha cominciato nel 95, quando c'era il teatro Emma Celebrazione, scritto da Graham Pitts, che rappresenta la vita di una donna italiana, cioè di Perth, quando è arrivata ed hanno fatto un teatro che si chiama Emma Celebrazione e volevano un coro e noi ci siamo messi avanti. Insomma, cantare ci piace e anche ora facciamo delle prove, allora cantiamo un pochino meglio di quello che facciamo. Hai continuato con il coro e continua ancora. Quindi non soltanto gestisci come area manager una grossa zona della città di Melbourne, hai anche tempo per la famiglia e hai anche tempo per l'arte. E io so che hai anche tante altre passioni, incluse quella di andare a Sorrento. Ah sì, sì, lì ci andiamo perché abbiamo una casa lì e Sorrento per me è un posto magnifico che mi fa ricordare un po' l'Italia, perché è veramente come si vive lì, ci sono caffè all'aperto, eccetera, e quella è tutta un'altra cosa. Una rotonda sul mare Il nostro disco che suona Vedo gli amici ballare E tu non sei qui con me Amore mio, dimmi se sei triste così come me Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te Se tu sei felice con lui Tu rimpiangi qualcosa di me Io ti penso sempre, sai Ti penso Una rotonda sul mare Il nostro disco che suona Vedo gli amici ballare Ma tu non sei qui con me Ma tu non sei qui con me Ma tu non sei qui con me Fammi un faura non me la anni iari Fammi un faura non me la anni iari A sto cenuzzo che mi porta a casa Ma tu non sei qui con me Ma tu non sei qui con me Ma tu non sei qui con me Un momento di rivedere sti, ci sono rimani. Un momento di rivedere sti, ci sono rimani.